Ben tornati con le consuite previsioni a cura di Meteo One. L'atta pressione allarga la sua influenza sempre più verso l'Italia. Difatti il bel tempo conquisterà gran parte del nostro territorio nazionale a partire da proprio dalle regioni a ovest. Solo lungo i settori adriatici meridionali nella giornata odierna scorreranno le ottime correnti fresche orientali. Valori termici in aumento ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 8 aprile. al mattino cielo seleggiato con qualche velatura sensazione di freddo maggiore acuita dal vento sostenuto che soffierà lungo le coste adriatiche e sul Salento. Durante il poveriggio possibilità di cieli più nuvolosi solo sui monti della Lucania altrove ci sarà sereno. La serata si presenterà stellata e senza nubi quasi ovunque. Per quanto riguarda le temperature così come possiamo vedere dalla grafica saranno in aumento nei valori massimi stazionare invece le minime. Venti settentrali moderati in attenuazione dalla serata. Per quanto riguarda i mari mosso l'Adriatico e il Canal d'Otranto, poco mosso lo Ionio. Ed ora eccoci con la nostra foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Angelo Chirona che è mortale a un fenomeno alquanto raro sul nostro territorio verificatosi qualche giorno fa nelle campagne di Altamura. Si tratta di un funnel ovvero una nube a forma di imbuto allungato in cui ruotano forti venti ma senza mai toccare il suolo. Quando invece questo imbuto toccherà il suolo parliamo più di tromba d'aria o anche in inglese tornado. Se volete inviarci la vostra foto del giorno ringraziamo vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine facebook di Meteo One e Teleappola oppure le mail che vedete di sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.